Nel primo match del 2022, ultimo del girone di andata, il Pinetto pareggia a reti inviolate allo stadio Riviera delle Palme contro i padroni di casa della San Benedettese. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa nessuna delle due squadre riesce ad avere il guizzo vincente. Calcio d'inizio per gli ospiti, dopo un avvio contratto, sono i padroni di casa a creare la prima occasione. Falle riceve nel cuore dei 16 metri avversari, provvidenziale il giovanissimo Capaldo a deviare in corner. Risponde il Pinetto al 27esimo, su azione insistita a Cercelluti, prova a servire Romano. Per poco il pallone non si insacca con lo stesso numero 24 che non riesce a cercare di insaccare la ribattuta del palo. Il match è bulico di emozioni, molto equilibrato con la prima conclusione in porta che arriva solo alla mezz'ora. Mercorelli però non ha problemi a bloccare il tentativo di Lorenzoni. La ripresa inizia subito con un colpo di scena per questa trattenuta tra Capaldo e Peroni. Mazzer di Conegliano concede tra le proteste ospiti la massima punizione. Dal dischetto Falle trova una grande risposta di Mercorelli che scende la Saracinesca e mantiene la propria porta inviolata. La partita recita lo stesso copione del primo tempo con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il pertugio vincente. Il rosso-blu provano a mettere la freccia al 68esimo. Su ripartenza bruciante Peroni riceve e sfiora l'incrocio con un pregevole tentativo dal limite. La risposta a Bruzzese arriva dalla catena di destra. Su azione è insistita in aria. I ragazzi di Pomante per poco non creano il vizio giusto alla retroguardia di casa. Ci prensa a Brandini a disinnescare il tentativo a botta sicura di Pezzotti. Conservando lo 0-0 vince la Noia in un match equilibrato al Riviera delle Palme. È stata una partita equilibrata. Al primo tempo abbiamo fatto bene noi, al secondo tempo bene loro. Siamo stati bravi nell'occasione del rigore loro. È stata una partita equilibrata che poteva essere risolta da un episodio. Sfortunatamente per noi non c'è stato, però non c'è stato neanche per loro. Nel secondo tempo sicuramente. Ma San Mattese è una squadra forte, l'ho detto prima a un tuo collega. San Mattese non è quella delle prime sette partite. Adesso è una squadra vera, una squadra formata da giocatori importanti. Si vede che è una squadra anche organizzata. Il normale in San Mattese secondo me può dare fiducia da torcere a tutti. Ma gli obiettivi sono quelli di trarre il massimo ogni partita. Cercando di arrivare sempre, possibilmente, nella posizione più alta possibile. Raggiungendo i play-off. Sì, io sono del parere che, come hai detto tu, in questi casi, quando hai visto che sbaglio il rigore, giochi magari più di un'ora di partita nella loro metà campo, alla fine hai visto con un tiro proprio di pezzotti, rischiamo di perdere la partita. Quindi sono contento della prestazione della squadra. L'atteggiamento è questo. Dovono essere forse un po' più cattivi. Però la strada è ancora lunga e in salita. Sì, abbiamo un presidente ambizioso e questo ci dà la carica per affrontare al meglio le partite. Però, come ho già detto prima, agli obiettivi è meglio non fissarli adesso. Pensiamo partita dopo partita e poi vedremo.